Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura come sempre l'emergenza sanitaria aumenta la pressione sulle strutture ospedaliere in campagna con le terapie intensive quasi sature e difficoltà anche al Covid Hospital di Bosco Trecase nell'ambito dell'ASL Napoli 3 Sud. Sul fronte vaccini questa mattina con le nostre telecamere siamo stati al centro vaccinale della scuola Giovanni Paolo II dove si stanno somministrando le dosi per il personale docente. Non sono mancati i disagi. Ampio spazio anche alla cronaca con la maxi operazione dei carabinieri arrestate 16 persone affiliate al clan da Alessandro Operativo su tutto il territorio di Castellammare di Stabbia. Poi la Guardia di Finanza ha scoperto e fermato due gruppi criminali dediti alla pesca e al contrabbando dei datteri di mare. Questo è molto altro. Guardiamo i servizi. Ospedali di nuovo al collasso, terapie intensive quasi piene. Siamo in una situazione di progressiva saturazione legata a quello che appare il picco della cosiddetta terza ondata nella quale le strutture ospedaliere riescono ancora a reggere ma con estrema difficoltà. A parlare è Gennaro Sosto, direttore generale dell'Asla Napoli 3 Sud. L'emergenza pandemica sta mettendo a dura prova il sistema ospedaliero dell'azienda sanitaria. Abbiamo ancora qualche posto covid libero nelle strutture specializzate, continua Sosto, ma registriamo molti accessi nei pronto soccorso di Castellammare di Stabbia e Nola, non riuscendo a fare migrare con facilità le persone affette da covid presso le strutture specializzate. Per fronteggiare la nuova andata, l'ipotesi è di ampliare ulteriormente l'hub di Bosco Tre Case, dove già sono stati superati 100 posti letto. Si cercano anche altre strutture, tenendo conto però della generale carenza di personale medico specializzato. In definitiva, conclude Sosto, possiamo dire di essere in una nuova situazione di faticoso equilibrio, nella speranza che a breve si possano avvertire gli effetti dell'introduzione della zona rossa, oltre all'auspicio che, come l'anno scorso ad aprile, possano calare gli accessi. Cresce la pressione anche sugli ospedali napoletani. Al Cotugno c'è un posto libero in terapia intensiva, mentre la subintensiva è piena e l'adegenza è al completo stabilmente. Con un nuovo ricovero, appena c'è una dimissione. Al Cardarelli ci sono 150 pazienti covid ricoverati, 16 che occupano tutti i posti in terapia intensiva e 103 ricoverati tra semi-intensiva e degenza ordinaria. Sensibile aumento anche all'ospedale del Mare, dove ci sono 11 ricoverati in terapia intensiva, sui 16 posti disponibili. Piena la terapia subintensiva con gli 8 letti occupati e piena l'adegenza con tutti i 39 posti occupati. All'oretto Mare ci sono 4 ricoverati in più in degenza e quindi i letti disponibili sono solo 5 sui 50 a disposizione, mentre tutti i 20 posti in subintensiva sono occupati. Al Covid Center San Giovanni Bosco ci sono 5 pazienti in più in degenza, con 36 posti occupati sui 40 disponibili, mentre in subintensiva i 6 posti letto sono pieni. I dati rispecchiano l'andamento dei contagi, con i positivi che restano alti e i sintomatici che aumentano sensibilmente. Oggi a Napoli sono 93 su 218 nuovi positivi, mentre in Campania i sintomatici sono 499 sui tamponi di ieri. Si torna a vaccinare il personale scolastico dopo lo stop ad AstraZeneca degli scorsi giorni, fermo poi non confermato e ritirato. Le persone si sono recate qui alla scuola Giovanni Paolo II per effettuare il vaccino senza non pochi problemi. Infatti non sono poche le persone che stamane non hanno potuto ricevere il vaccino a causa della propria cartella clinica. Saranno ricontattate poi nei prossimi giorni dall'Asla territoriale per ulteriori informazioni. Riprende la campagna vaccinale anche per il personale scolastico. Dopo le criticità degli scorsi giorni legate allo stop dei vaccini della casa farmaceutica AstraZeneca, ritornano a vaccinarsi i docenti e personale scolastico. A Torre del Greco, presso l'Istituto Giovanni Paolo II, si procede alle vaccinazioni con non poche difficoltà. Sono numerosi gli eventi diritto al vaccino che si sono visti negati alla possibilità all'inoculazione della dose a causa di problematiche quali allergie o intolleranze. Maggior attenzione e precauzione quindi per coloro che sono destinati al vaccino della casa anglo-svedese. Con il personale scolastico, che nonostante il via libera e i vaccini targati a AstraZeneca, manifesta non pochi dubbi, perplessità e paure. Questa mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura custodiale cautelare emessa su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli dall'Ufficio GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 16 soggetti, dei quali 15 ristretti in carcere ed uno agli arresti domiciliari, gravemente iniziati a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata di inconcorso, detenzione illegale di armi comuni da sparo, reati tutti aggravati dalle finalità mafiose per aver agito avvalendosi della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza a clan d'Alessandro, operante in Castellammare di Stabia e nei territori di Mitrofi. L'ordienno provvedimento trae origine nella più ampia e articolata attività di indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e delegata al Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, che riguarda un ampio spettro temporale compreso tra il 2017 e il 2020, dove si è dimostrata l'attuale operatività del citato Sodalizio, evidenziando un quadro recente ed aggiornato in ordine della struttura, i ruoli e le attività illecite posti in essere dal clan d'Alessandro, da sempre operante in Castellammare di Stabia e capace di determinare influenze criminali anche sul territorio limitrofo, dei Monti Lattari, pertinenza del clan alleato a Feltra di Martino e con estensioni sino alla penisola sorrentina. Le attività di indagine consentivano di ricostruire l'articolazione criminale ricomposta tra il 2017 e il 2018 intorno alle figure criminali della storica militanza quali Mosca Sergio, alias Sisergio Vaccaro, D'Alessandro Giovanni, alias Giovannone e Rossetti Antonio, alias Guappone, regenti ad interim del clan e componenti di un direttorio creato ad acta in assenza di appartementi di rango della famiglia d'Alessandro, curando gli interessi della famiglia fino alle scarcerazioni eccellenti sopraggiunte nel periodo successivo. Sono state documentate diverse estorsioni poste in essere dal clan d'Alessandro nel suo capillare controllo del territorio, avvalendosi del braccio armato costituito da Longobardi Antonio, alias Ciccillo, e Barba Carmine, rivelatisi essere anche i custodi dell'arsenale del clan che non veniva tenuto in un unico luogo di custodia, ma parcellizzato in punti diversi e noti solo agli stessi per eludere i sequestri. Ulteriore aspetto emesso dalle indagini è l'impiego di un imprenditore edile, Paturso Liberato, votato a soddisfare gli interessi del clan attraverso una serie di servizi quali partecipazione ad appalti pubblici, informazioni su aggiudicazioni di pubblici incanti, segnalazioni di imprenditori da avvicinare per l'imposizione del racket. I ricavi delle estorsioni venivano reinvestiti nel giro dell'usura che moltiplicava le rendite. Contestualmente sono state sviluppate attività investigative anche sul profilo patrimoniale dei nuclei familiari riconducibili agli indagati, in esito alle quali sono state riscontrate sperequazioni tra i redditi di ciascuno e di beni o liquidità in possesso. Le risultanze dell'ulteriore attività di indagine hanno consentito l'emissione da parte del GIP presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrittuale Antimafia di Napoli di un decreto di sequestro preventivo relativamente a beni mobili, sei autoveicoli, due motocicli, immobili, due appartamenti, rapporti finanziari, undici tra conti correnti, libretti di risparmio, depositi di titoli, carte di credito, imprese, tre nel settore della ristorazione, dell'edilizia e della somministrazione di alimenti e bevante e quote di società, due quote di società relative ad imprese edili, per un valore complessivo stimato in oltre 6 milioni di euro. Nell'ambito di un'inchiesta diretta dalla Procura di Napoli, la Guardia di Finanza Reparto Operativo Aeronavale di Napoli ha disverato l'esistenza di due sodalizi criminali dediti con modalità organizzate e professionali alla raccolta indiscriminata di datteri di mare nel Golfo Partenopeo. La specie marina è protetta da diverse convenzioni internazionali e direttive comunitarie ed anche a livello nazionale il divieto di cattura, detenzione e commercializzazione risale all'anno 1988. Le indagini sono durate oltre tre anni e hanno smascherato l'esistenza di un vasto mercato illecito aventi ad oggetto la specie protetta con le due organizzazioni che avevano stabilito un vero e proprio rapporto di mutua assistenza per procacciare il prodotto ittico, specie nei periodi di maggiore domanda, quasi sempre in coincidenza delle festività natalizie e pasquali quando per un chilo di datteri gli acquirenti erano risposti a pagare fino a 200 euro. Gli appartenenti ai due gruppi criminali si dedicavano in maniera costante ed abitudinaria sia al prelievo dei datteri di mare catturati mediante la contestuale distruzione di interi tratti di scogliera campana che alla successiva commercializzazione degli stessi presso numerosi ristoranti e pescherie della regione nonché presso una variegata clientela composta anche da esponenti di famiglie malavitose napoletane. Sono in particolare oltre 100 i soggetti individuati nel corso delle indagini a vario titolo operanti nell'ambito del mercato nero del dattero di mare. Nelle conversazioni intercettate viene spesso utilizzato un codice segreto per evitare il riferimento esplicito alla specie protetta nella piena consapevolezza dell'illeicità del relativo commercio. I reati contestati su un'associazione delinquere aggravata perché è finalizzata alla consumazione di delitti ambientali, inquinamento e disastro ambientale, danneggiamento e ricettazione. Nei confronti di sei indagati è stata adottata la misura custodiale in carcere. Trattasi dei vertici di due sodalizi ritenuti responsabili della devastazione ecosistemica cagionata attraverso lo spregiudicato prelivo dei datteri delle coste di Napoli e Capri. Per altri sei è stata invece decisa la custodia domiciliare. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che potete contattare la nostra redazione inviando un'email all'indirizzo redazione chiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340-6561-484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Grazie a tutti.